Vieni da me, mia piccola Akuma, e oscura il mio cuore! Adesso sono... il collezionista! Il libro da cui traevo ispirazione mi è stato portato via, perciò dovrò crearne un altro. E forse, chissà, prenderò un miracolo su due, già che sono. Lo sapevo che non sarei rimasto deluso. Ciao, Orsaccio. Io sono Papillon. Hai sempre avuto un'ottima influenza su Chloe, ma adesso devi avere una pessima influenza su tutti gli invitati. Anzi, direi più che pessima. Con molto piacere, signore. Sei stata molto cattiva, cara Chloe, e Orsaccio non è orgoglioso di te. È giunto il momento di fartela pagare! Ciao, regina delle notizie. Io sono Papillon. Ho visto che Ladybug e Chat Noir ti hanno negato le risposte che meritavi. Ruba i loro Miraculous e avrai il tuo scoop. Avrai il più alto indice d'ascolto! Benvenuti alla nuova trasmissione condotta da me, regina delle notizie! Se volete inform... Befana, io sono Papillon e voglio restituirti il tuo potere matriarcale da nonna. Userai queste caramelle per ricompensare coloro che lo meritano e per punire gli ingrati. E per ricompensarmi mi porterai i Miraculous di quei fastidiosi ragazzini Ladybug e Chat Noir. Hai ragione, Papillon. È arrivato il momento di dare loro una lezione. Figlio cattivo! Non dire a tua madre che cosa fare! Ma... Ma... Risposta! Io sono Papillon. Ti sto dando una seconda occasione per dimostrare che sei tu la migliore schermitrice di tutti. Ma in cambio mi dovrai portare i Miraculous di Ladybug e Chat Noir. Sul mio onore, Papillon. Tornerò vittoriosa! Oh! Ho deciso di accettare la tua offerta di una rivincita. Robostus, sono Papillon. C'è chi non crede che tu sia uguale a un essere umano, quindi... Ti do il potere di dare vita a tutte le macchine e a compiere la tua vendetta. Grazie infinite, signor Papillon. Ma in cambio, voglio che mi porti i Miraculous di Ladybug e Chat Noir. Non capisco il termine Miraculous. Sono i gioielli magici che appartengono ai supereroi. Perfetto! E qual è lo scopo di questi gioielli? Questi non sono affari tuoi! Sono solo curioso. Se usati insieme, possono realizzare un desiderio. Posso esprimere qualsiasi desiderio? No! I Miraculous e i desideri appartengono a me! Le assicuro che troverò Ladybug e Chat Noir. Lei ha commesso un grave errore di giudizio, signor Presidente! Sperimentate il mio...